Oggi parliamo del mio trade long su euro-dollaro, e già perché la scorsa volta ci siamo lasciati con un'operazione andata a stop, stop loss proprio sull'euro-dollaro. Innanzitutto ben ritrovato su questo canale, ben ritrovato con l'appuntamento di Professioni Trader, io sono Damiano Zito, membro attivo e collaboratore di Earforex. Allora, quella che ho qui davanti è la piattaforma di ProRealTime, dove ho già segnato quelli che sono i miei punti di ingresso, di stop e di target di un'operazione che ho già inserito in macchina per questo mercato già dalla giornata appunto di giovedì 9 novembre. L'operazione è al momento praticamente a breakeven, questo è il conto MetaTrader collegato al mio conto dedicato a questa rubrica. Siamo appunto a breakeven, il mio ingresso è stato appunto 1.0720 e questo è lo stop loss con il suo take profit. Ma passiamo appunto sulla ProRealTime, dove preferisco fare le mie analisi e considerazioni per andare a spiegare quella che è la mia view. Allora, il mercato appunto come dicevo, il mercato è in questione, avevo provato a shortarlo due settimane fa quando diciamo nella sua debolezza sotto 1.0550 aveva convalidato quella che era una FTV settimanale, poi fallita. Infatti nella giornata di mercoledì 1 novembre il mercato dopo questa pinbar ha creato nelle due giornate successive un bel rialzo e ha chiuso un settimanale che andiamolo a vedere. È un settimanale decisamente strong dal punto di vista di forza perché crea questo rialzo che è un doppio minimo higher close che appunto rimangia questa FTV e appunto conferma quella che era la view long o comunque l'impostazione long di questa pinbar che non è mai stata fallita. Quindi dopo 4 settimane, dopo 1, 2, 3, 4 settimane il prezzo viene su e conferma la forza di dollaro sul dollaro americano. Per quanto riguarda il mio ingresso, il setup di entrata è stata, diciamo, il LAM me l'ha dato dopo questo pullback questo mercoledì 8 novembre, quindi un FTV, che è andata sostanzialmente a ritestare quella che era proprio la zona di, che adesso sta facendo pavimento, di ex appunto vendita, resistenza nel breve per, in realtà anche sul settimanale, lo era già stato qualche settimana fa, qui il prezzo aveva creato appunto un FTV e quindi nel momento in cui il prezzo adesso è andato a rompere con questo fortissimo rialzo, nel suo ritracciamento sta ritestando e tenendo. E' proprio questa zona che è il livello di 1,06 e 70 sta in questo momento tenendo il mercato, sta riacquistando, ha riacquistato proprio su queste zone. Dopo appunto questo rialzo io avevo atteso il giorno successivo perché volevo capire se il prezzo poteva andare ancora un po' più giù oppure se era il caso appunto di posizionare il mio buy stop proprio sopra i massimi di questo mio setup. Se andiamo appunto, abbiamo detto che era il mercoledì 8 novembre, se andiamo sul, vediamo il 4 ore, quello che come ho osservato io il 4 ore la mattina successiva all'8 novembre, quindi lui l'8 novembre aveva già creato il mio rialzo, la sessione mattutina del giovedì 9, il mercato ritraccia il rialzo, però chiude, quindi chiude in questo modo. Nel momento in cui dopo le 13 o verso le 13, 14 probabilmente avevo, stavo osservando questo mercato, ho pensato che questo ritracciamento con un leggero spike poteva essere molto interessante, nel senso che andare a posizionare il mio buy stop proprio a 1,0720, quindi con un rialzo che poteva sul 4 ore dare un, creare appunto una dinamica di conferma come era questa, era sicuramente un buon anche timing di ingresso. In realtà il mercato dopo aver eseguito il mio ordine è venuto giù, quindi la giornata si è chiusa anche negativa. Se andiamo a vedere, esatto, il giovedì 9 c'è stato questo ribasso proprio che insomma va a ritestare proprio questi, questa zona di minimi chiude comunque in zona 1,0670, ma insomma sono rimasti in posizione proprio perché insomma guardando il settimanale ancora eravamo, lo siamo ancora in realtà, eravamo veramente su questi massimi, cioè vogliamo, possiamo diciamo definire come dire una congestione, ecco eravamo ancora su questi massimi, una congestione sui massimi dopo questo forte rialzo. Quindi insomma sono rimasto, sono rimasto dentro e sono ancora dentro questo mercato, quindi al momento ha, come dire, ha al prezzo o al prezzo di ingresso. Lo stop, lo stop è 1,058, ho rischiato, faccio vedere sul diario di trading la posizione, ho rischiato fondamentalmente 85 euro circa, con quindi 0,07 contratti sul conto, quindi con la MetaTrader. Per quanto riguarda invece, quindi, ah ecco, lo stop, dicevo, si trova sotto quest'area, quindi sotto l'1,06, proprio perché è da qui insomma un pochino più in basso che probabilmente è partito questo long, ma dovesse in qualche modo il prezzo annullare già questa barra, insomma non mi piacerebbe, non mi piacerebbe vedere il mercato così forte al ribasso, anche perché se lo immaginiamo sul settimanale probabilmente ci ritroveremo con una situazione del genere e in qualche modo potrebbe anche cambiare un po' la figura, o comunque significa che magari il mercato ancora non è pronto per il rialzo, o comunque, insomma, sarebbe da gestire. Quindi diciamo un ritorno sotto quei livelli, insomma, non mi piace, e se torniamo a vedere un po' quella che è la dinamica, effettivamente ci troviamo praticamente sotto questa pinbar che ha riportato su il prezzo, e sotto, chiaramente, sotto questi minimi. Quindi l'1,058 è un livello interessante, siamo 20 punti sotto l'1,06, c'è abbastanza spazio. Anche perché quando ho fatto questo trade, tra le note, diciamo, negative che magari potevo dare al setup in questione, era proprio il fatto che la volatilità non era proprio esagerata, quindi una volatilità di 57, 55, insomma, appunti, non è proprio una grande volatilità per l'euro, nella norma. Quindi, diciamo, era un setup che qualora dovesse esserci volatilità al ribasso, tipo una giornata come questa, dove un minimo massimo è di 112 punti, insomma, la questione può girarsi contro e gestirla, gestirla a quel punto probabilmente mi potrebbe portare, vedendo anche un po' come gestisco le mie posizioni, a chiudere in maniera anticipata se questo stop lo porto più in alto, e quindi avere un costo anche quando non ha senso. Quindi lo stop qui giù lo ritengo in questo momento uno stop adeguato. Chiaramente adesso andrò a vedere quale sarà l'evoluzione del prezzo, nel senso che andrò a capire se ci sono le condizioni innanzitutto per fare un incremento e anche per spostare questo stop, magari uno stop a questo punto un po' più in alto, mantenendo lo stesso rischio potrebbe essere, diciamo, un'operazione che andrò a svolgere nelle prossime giornate. Al momento sicuramente non vado a fare nulla. Per quanto riguarda il target, il target è fondamentalmente, diciamo, una zona che ha una confluenza in questo momento con sicuramente questa dinamica minimo-massimo, se la andiamo a tracciare, questa è una dinamica daily, esatto, quindi prendendo questo minimo e questo massimo, si vede come da qui il prezzo, anche se l'ha fatto con una sorta di congestione, l'ha fatto sempre con i suoi tempi in questo caso, comunque ha mostrato una dinamica davvero interessante. Questa è, tra l'altro, l'area pullback e da qui il prezzo è sempre stato riacquistato e questa, diciamo, questa dinamica porta proprio un suo T4 in area 1.085. Quindi, avevo visto questo T4, chiaramente qui c'è il suo T3 che è, diciamo, confluente con questo massimo, quindi un'area dove lui potrebbe anche fare un doppio massimo tecnico, qui vediamo come ci arriva, se ci arriva, e poi c'è questo T4 che è confluente, se andiamo sul settimanale, vediamo come se io prendo le estensioni di questa pin bar, il T5 di questo setup è proprio 1.084, insomma 1.085, quindi il mio take profit adesso è proprio 1.085 e l'ho lasciato in macchina perché è la zona che mi piace di più in termini di anche confluenze di prezzo. Chiaramente dovesse essere un pochettino più forte l'euro, sicuramente la zona più in alto, quindi 1.09, 1.0940, 1.50, è una zona di questa zona dove lui aveva swingato quando ha fatto questo movimento short, e quindi potrebbe anche arrivare un pochettino più in alto. Però, insomma, nell'ottica del mio trade questa è l'impostazione. Tra l'altro un trade molto simile a un trade che ha impostato anche Arduino sul Platinum, lui l'aveva settato proprio nella giornata dell'8 novembre, mi pare, sul 6 ore. Dopo, sì, probabilmente dopo questa barra setup lui aveva già posizionato l'ordine. Io invece ho atteso un po' di più, ma fondamentalmente il prezzo in realtà, quindi l'ordine è stato colpito nello stesso momento. Tra le altre cose, insomma, curiosità dal punto di vista di dinamica anche sul 6 ore, anche qui ho questa dinamica tracciata, che è una dinamica che è la dinamica praticamente di rialzo, questa è la barra praticamente doppio minimo Ayer che ha portato poi al rialzo della settimana bullish, e effettivamente vediamo come c'è confluenza, nel senso che il prezzo adesso si sta appoggiando su questo livello, che è il T4 del rialzo avvenuto proprio nella giornata del mercoledì primo novembre. Con quel fatto che effettivamente lui adesso abbia un po' lateralizzato tra l'1.07 e l'1.06.70, insomma, non è neanche così anomalo. Da qui effettivamente, proprio ai fini del progetto del mio trade, non mi piacerebbe vedere tantissimo un forte ribasso proprio su questi livelli, anche se potrebbe venire a sporcare proprio quest'area. Però, insomma, appunto lo stop in quest'area qui serve proprio ad evitare sporcature, comunque a ragionare sulle dinamiche di prezzo. Dal punto di vista di mercato, io al momento, diciamo, ho preferito l'euro, proprio perché, in realtà, dopo il rialzo, la sterlina ha avuto un ribasso un pochettino più pronunciato, un po' più forte. Ho un piano operativo al momento long, esclusivamente long su questo mercato, anche se c'è stato questo forte ribasso. Se vediamo, in realtà, anche il settimanale, settimanale del genere, però preferisco aspettare anche perché la zona di 1.21, questa zona qui, sebbene, insomma, possa, diciamo, possa anche essere bucata, dovesse tornare veramente forse il dollaro americano, al momento mi sembra veramente una zona forte. Quindi, diciamo, ho preferito mantenere il long sul mercato, e attenderò poi, se mai nelle... dovesse tornare al ribasso la sterlina, attenderò poi settimana prossima, cambierei idea. Idea, invece, che ho mantenuto short, invece, solo sull'australiano, perché l'australiano, lo vediamo, è un mercato che è rimasto abbastanza incastrato tra questi livelli, non lo 0.65, 0.64, 0.63, nel senso che, finora, lui ha fatto i movimenti proprio, non ho raggiunto questi livelli tondi. Tra l'altro, insomma, l'ho analizzato anche nei video precedenti di Professioni Trader. Dal punto di vista, quindi, operativo, insomma, qui il mio piano al momento è short. Sullo yen ho lasciato un piano long, anche se la situazione non è proprio delle migliori, nel senso che il dollaro al momento è forte solo su... veramente forte solo su questo mercato, forse sull'australiano, mentre sul Canada effettivamente non è che ci sia stato un bel setup short, nel senso che anche qui in realtà il dollaro ha avuto un bel recupero, l'idea era fare, diciamo, uno short dopo questo doppio massimo l'overclose, al momento non è stato confermato, e anzi, il mercato sporca questo minimo, va a rialzo, questo tra l'altro è un FTV long, ma siamo in zona di vendita, quindi non faccio niente in questo momento. Sull'oro sto cercando di capire se il mercato ha intenzione di recuperare, perché, insomma, siamo in questo fortissimo trend long sul settimanale. l'idea di, diciamo, il mio piano operativo al momento è long short, però se dovesse tornare con forza sopra il 1960 e poi creare una dinamica, potrei, potrei valutare il long. Mentre sul petrolio al momento è in ritracciamento dopo questo forte short, il piano è sostanzialmente quello di attendere eventualmente l'arrivo in questa zona e capire se si crea un trigger, quella, insomma, l'idea è quella di valutare uno short. Mentre molto interessanti, invece, sono gli indici Germania e S&P, vorrei, probabilmente, insomma, dovessi fare un altro trade, ci sto pensando, l'idea è quella di valutare un long su S&P 500 che sta tenendo la zona dei 4.300. e qui abbiamo un, se andiamo a vedere un po' il settimanale, questo livello, insomma, i 4.350 sono un livello di, come dire, di domanda importante, in realtà, probabilmente, lo è stato anche nel passato, lo vediamo anche qui. Ci sono vari spike, quindi mi piace, mi piace. Questo è il livello dove si è fermata, appunto, la settimana del 30 ottobre, e adesso sta, appunto, sta su questi massimi dopo un finto ribasso che è avvenuto proprio nella giornata di giovedì scorso. Tra l'altro questo è un doppio massimo, l'overclose, che è stato subito recuperato e rimangiato venerdì scorso. Quindi l'idea adesso è capire se vale la pena settare un buy stop proprio sopra questi massimi, quindi lavorare sulla forza del mercato, e sto cercando di valutare quello che potrebbe essere uno stop adeguato, quindi uno stop sotto i 4.300 o addirittura 4.250, 4.250 potrebbe essere una zona dove eventualmente andrei a posizionare uno stop. L'idea, appunto, l'idea è quella. Questo livello probabilmente ha più senso, un po' più in basso, guardando un po' quella che è la situazione sul, anche il dettaglio del daily. Quindi, insomma, l'idea è che questo trigger, insomma, questa forza sia mantenuta e non ci sia ribasso. Quindi una volta rotti anche questi massimi, mi aspetto, diciamo, quantomeno ho una congestione o comunque un ulteriore allungo. Poi, dal punto di vista di target, molto probabilmente potrei, diciamo, in prima battuta posizionare un target sui 4.600 e provare a fare un trade un pochettino più costruito, quindi provare a fare degli ingressi multipli, uno o due incrementi per provare, appunto, ad arrivare ai 4.600, se effettivamente il mercato sta, come ci sta dicendo, è pronto per questo rialzo, anche perché questa è la forza che mostra il settimanale. L'idea è che dopo questo, appunto, questo bullish, questo forte movimento di mercato bullish del 2023, ci sia stato un profondo ritracciamento, un ritracciamento tipico dei mercati azionari, adesso sembra pronto, almeno per andare a riprendersi, almeno i 4.500, ma anche i 4.600. Non ho tracciato le estensioni, ma potrei fare anche qualcosa del genere. ecco, sì, ecco, 4.550 è il, diciamo, il T3 di questo, ho preso questo minimo massimo, insomma, è un progetto che ancora non ho fatto, insomma, sto valutando, potrebbe essere questo un trade che potremmo vedere nel prossimo episodio di Professione Trader. Io al momento ti ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, ti ricordo, se non lo hai già fatto, di iscriverti qui sul canale di Airforex e attivare anche la campanella. Se ti è piaciuto il video, ti invito a lasciare un mi piace e un commento al video per farmi sapere cosa ne pensi del trading corso sull'eurodollaro, se anche tu sei dentro, se condividi la gestione operativa. e ci vediamo al prossimo video. Ti auguro buona giornata, buon trading e alla prossima.